Attenzione, attenzione, arriva finalmente la più alta nuova entrata della settimana. Per me è come se fosse un inno alla gioia. Certo, io non mastico tanto in inglese, però basta poco per associare la parola felice in happy, ecco perché significa esattamente questo. Pharrell Williams ha pubblicato il 21 novembre scorso questa canzone postandola in rete e rappresenta il suo nuovo singolo, tra l'altro utilizzato anche come colonna sonora, del cartone animato e d'animazione Cattivissimo Mi 2. Quindi sicuramente i più piccini sanno già di cosa sta a fare. Cattivissimo Mi, bravo! Cattivissimo, allegra, solare, spensierata e devolta proprio a regalare il ballo e il sorriso a chiunque la ascolti. Per happy è stato girato, pensate a un videoclip, il video più lungo della storia della musica pop. Ovviamente noi non siamo in grado di suonare quel tipo di video perché non basterebbe una puntata di tre ore, tanto è vero che il videoclip, quello da lungo, dura 24 ore, a cui hanno partecipato moltissimi personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della musica e dello sport, tra cui spiegano alcuni nomi come Magic Johnson, Jimmy Fox, Steve Martin e Janelle Monnet, così per fare alcuni nomi, ma ce ne sono comunque tantissimi, altri ancora. Chi lo sa se prima o poi qualcuno avrà la pensata di vedere questo videoclip di 24 ore. Secondo me no, perché in un giorno bisogna fare veramente tantissime cose e almeno che non abbiate del tempo da perdere, allora vi mettete lì a vedere 24 ore di video, ma non sarà il caso vostro, ne sono più che sicuro. Tranquillone. La più alta nuova entrata della settimana al numero 5 di Ecomplex.